Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di giovedì 21 dicembre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa perturbazione e interessare in particolar modo le regioni centrali. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili su gran parte del territorio. Tuttavia deboli fenomeni di instabilità potranno interessare ancora in particolar modo il basso chietino. La ventilazione media proverrà dai quadranti settentrionali ed i mari saranno principalmente poco mossi o mossi. Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica vedrà un ulteriore miglioramento con i cieli che risulteranno principalmente sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. La nuvolosità maggiore interesserà ancora una volta il chietino. Le temperature inoltre risulteranno stabili su valori sottomedia per il periodo. Nel corso della serata le condizioni meteorologiche non vedranno grosse variazioni con i cieli che risulteranno principalmente sereni o poco nuvolosi. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.